Noi ci occupiamo in particolare di sicurezza documentale, siamo i promotori del timbro digitale e collaboriamo con numerose aziende, sistemi integrator sul territorio nazionale ma anche oltre in Europa e contribuiamo oggi proprio con la nostra presenza per veicolare per l'appunto questa nostra soluzione e spiegarla al mercato meglio di quanto è stato fatto finora. Che cosa c'è da fare in Italia? In Italia c'è da mettere estremamente in evidenza le imprese che fanno qualità e che sono spesso e volentieri le PMI e cercare anche di dare un senso alle regole che sono state più di una volta legiferate, sia ritornate indietro, sia andate avanti, bisognerebbe cercare invece di trovare una strada e percorrerla fino in fondo.